... Amici carissimi, bentrovati, buonasera da Stefano Bagliani per la sesta puntata di Sette Calcio Mercato edizione 2022 è la terza stagione che proponiamo questi incontri settimanali parlando un po' di calcio mercato ma poi affrontando anche altre tematiche sempre del nostro calcio dilettantistico andiamo in onda tutti i lunedì di giugno e luglio giugno ormai l'abbiamo passato avremo altre due puntate oltre queste questa sempre alle 22.30 e poi replica il martedì alle ore 18 e il mercoledì alle ore 14 io direi di andare subito a presentare gli ospiti perché anche oggi abbiamo veramente due personalità particolarmente importanti prima di tutti però qui alla mia destra Alvaro Arcipredi, il mio compagno di viaggio per tutta questa serie di Sette Calcio Mercato ciao Alvaro, buonasera ciao Stefano, piacere mio perché sono ancora una volta 10 metti da casa con i due Roberti che adesso presenterai che renderanno questa serata secondo me veramente carina particolare particolare alla destra di Alvaro l'avvocato Roberto Bianchi neodirigente del Sansepolcro buonasera buonasera, buonasera a tutti grazie per l'invito e poi ancora l'altro Roberto che è Damaschi nuovo consigliere federale del CRU buongiorno o buonasera buonasera visto allora a tutti è un piacere stare qui con questa bella compagnia scoperto dall'avvocato Bianchi ormai si è dato la retta via e non beve più quindi già come serata a parte male ma limitato nel tempo ritornerò tutte ghiacchiere tutte ghiacchiere distintive sono una parentesi allora ricordo che 7 Calcio Mercato è una trasmissione itinerante andiamo a vedere un attimo Ottica 2M dal 1982 il vostro punto di vista nelle nostre sedi di Umbertide e Città di Castello potrete usufruire dei servizi di misurazione della vista montaggio e riparazione occhiali applicazione di lenti a contatto cortesia e professionalità unite a un'atmosfera familiare e a un ambiente cordiale contraddistinguono da anni i nostri servizi Ottica 2M la trovi a Umbertide in Viale Unità d'Italia 35 e presso il centro commerciale La Fratta a Città di Castello in Via Giuseppe di Vittorio Benissimo, eccoci di nuovo qui allora io volevo così una piccola chiosa su un commento che ha fatto Roberto Damaschi secondo me uno dei più simpatici che ho registrato su Facebook sulla pagina Facebook di 7 Calcio era un articolo avevamo postato un articolo della notizia dell'Orvietana con Alvaro Arcipredi e Giuliano Cioci in vista diciamo sulla copertina e Roberto Damaschi ha scritto in tre, me compreso, un famo, una parrucca ma neanche lontanamente è una verità assoluta non si può dire che non sia così non teme smentire questo commento no, 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 assolutamente no, no, vabbè volevo dire questa perché comunque tra l'altro un commento che ha ricevuto anche parecchi mi piace guarda, il calcio soprattutto dilettantistico secondo me sì, la parte agonistica deve essere anche insomma, c'è quando essere seri ma c'è anche quando prenderla per ridere per divertimento anche con un po' di autoironia perché credo che insomma sia al mio modo di vedere la versione giusta di interpretare il calcio assolutamente no, no, no su questo siamo d'accordo volevo esordire diciamo così con l'avvocato Roberto Bianchi che è uscito di scena da poco dal Tiferno Lerchi ora nuovamente denominato Città di Castello avvocato hai sempre parlato quando eri lì al Tiferno di serie C invece poi questo progetto è definitivamente tramontato con la tua uscita di scena che è successo? l'uscita di scena è stata proprio l'8 dicembre mi ricordo alla data perché è un giorno di festa per la Madonna esatto è stato poi no, è uscito di scena perché naturalmente ricordiamo un po' perché sennò poi la gente interpreta male o dà delle versioni erronee cioè io ero meramente un direttore sportivo chiamato dai tre soci del Lerchi che stavano chiudendo i battenti quindi la società andava in liquidazione e quindi sono stato chiamato a dirigere sotto un profilo sportivo come presidente sportivo questa società e chiaramente non te lo ricordi ma insomma in tre anni dalla prima categoria siamo saliti in serie D e vincendo una coppia Italia d'eccellenza e il progetto era quello di andare in serie C infatti il primo la prima esperienza in serie D mi ero anche preoccupato perché al giorno era andata eravamo addirittura a Natale eravamo primi in classifica quindi scommo visto che il progetto poteva essere interessante tramite un amico collega di Civitanova abbiamo cominciato ad allargare la pletora degli sponsor avevamo trovato uno sponsor molto importante a Foligno che ci avrebbe assicurato con un contratto biennale somme importanti però questa cosa a un certo punto i tre soci che ribadisco i tre soci mi avevano dato fiducia ma non hanno mai messo un centesimo in tutti gli anni non solo in termini economici ma anche un briciolo di impegno o di iniziativa per poter fare qualcosa quando hanno visto che la società che stava per chiudere dovevano pagare i debiti qualche anno prima ora poteva essere interessante trovare qualche acquirente e quindi questo progetto non interessava più è stato fatto nel momento in cui annunciavo questo progetto ad andare in serie C sono stati cominciati a vendere i giocatori gioielli importanti che avevo faticato a portare a portare a città di Castello in primis Calderini e quindi sono cominciate le discussioni forti i contrasti e fino al punto tale che i tre soci riuniti in assemblea ma con la complicità di qualche sciagurato per chiamarlo col nome corretto quindi io la chiamo la rivoluzione degli stolti perché poi alla fine è stato così come quando i vichinghi hanno occupato Roma insomma sono seduti sul trono dell'imperatore romano e quindi hanno creato uno sfacello e quindi mi hanno costretto alle dimissioni perché era il loro potere d'altronde la società era la loro e quindi io mi sono dimesso e devo dire che poi naturalmente dal calcio una volta che ci entri poi è una malattia e voglia di rientrarci e poi sono stato contadato dal carissimo amico e illuminato Fabrizio Innocenti sindaco di Sansepolcro il quale mi ha chiesto appunto di di poter contribuire dare una mano a Sansepolcro memore anche del fatto che nel momento in cui lui col Sansepolcro calcio anni fa non aveva grande feeling io gli chiesi perché non viene a Castello quindi apprezzo anche questo mio uno scambio uno scambio e quindi devo dire che è un ambiente fantastico Sansepolcro e poi dopo di questo ne parlerò ne parlerò dopo devo dire questo permettetemi perché almeno così cammino meglio perché avete visto che zoppicavo un po' che avevo dei sassolini sulle scale e devo dire con la complicità della vecchia amministrazione del vecchio sindaco tanto per non fare nomi voi sapete che sono Luciano Bacchetta e il suo compagno di viaggio è stato clemente generoso Massetti assessore allo sport è stato fatto proprio un pranzo carbonaro per cercare di farmi fuori perché naturalmente dava un po' fastidio cioè le grandi personalità che sono grandi querce hanno sempre tentato di far fuori quelle piante che gli facevano ombra ma erano pochissime quando invece a comandare un piccolo arbusto è chiaro che tu se fai fuori tutti quelli che ti fanno ombra crei una desertificazione totale e questo purtroppo Città di Castello ha vissuto questo periodo buio veramente buio Luciano Bacchetta ormai è ridotto ai minimi termini so che l'altro giorno all'apertura del festival della musica da camera sta bacchettando tutti non ha tollerato che io fossi in prima fila ma io ho pagato il biglietto un mese e mezzo fa perché io amo il teatro e amo andare in prima fila e so che si è lamentato con tutta la giunta comunale presenza della mia presenza in prima fila ma deve ricordarsi che io comunque resterò in prima fila lui piano piano scivolerà verso l'ultimo detto questo ora camminerò meglio e poi dopo parlerò anche di Sansepolcro bene Alvaro l'avvocato non è che ci è andato leggero su determinate lo definirei pietre rotolanti sì ha detto tutta la verità su Città di Castello si sapeva ma guarda Città di Sassolini adesso sei liberato ma allora è chiaro che queste sono vicende che Città di Castello è notoriamente una piazza molto difficile però due constatazioni basta voglio fare anche perché è giusto che sia così da parte mia c'è un fatto lui quando parla di tre campionati vinti nel calcio secondo me contano i budget e chi vince e chi perde e va riconosciuto va dato atto a Roberto Bianchi che comunque ha portato questa squadra in tre anni credo se non vado a lato in serie D e quindi da questo punto di vista è evidente che Città di Castello nel suo insieme insomma deve dire grazie a uno come Roberto Bianchi per quello che è riuscito a riportare a Città di Castello visto che c'era uno stato di crisi veramente elevatissimo per una città dello spessore di quella Tifernale questo per cui guarda l'aspetto tecnico poi vabbè il resto l'avvocato è andato sul personale quindi queste cose che attengono a Luciano Bacchetta e a Roberto Bianchi l'unica cosa a precisazione che magari volevo fare quindi queste sono questioni credo veramente chi l'ha vissute le conosce d'altro canto però io la metto sempre sul piano del calcio avvocato non sul piano politico che non mi interessa nulla diciamo che negli anni penso e finisco che Luciano Bacchetta sia uno che a differenza per venire al sodo così lui è stato un polemico così così continuo io adesso rispetto ad altri sindaci tipo purtroppo nella nostra città di Umberte dove il pallone era un mistero chiunque sia stato negli ultimi 15-20 anni e il calcio purtroppo vive a Brandelli con due squadre in prima categoria io credo che Luciano Bacchetta siccome è uno che gli piace il calcio al di là poi delle situazioni personali sia sempre stato dietro le vicende calcistiche di città di Castello e questo credo che sia fondamentale per una città importante come quella di Fernante poi il futuro meglio non avercelo dietro ma io sto dicendo io sto dicendo semplicemente che comunque non ha gradito che qualcuno fosse in grado di poter fare qualcosa a città di Castello a città di Castello se qualcuno fa qualcosa di buono e io dissi ma era una questione politica esatto beh certo cioè qui il problema è stato proprio questo quindi io avevo detto chiaramente che questa città mi aveva dato tanto in tanti anni di professione che sono quasi 40 anni in professione volevo restituire qualcosa ma si vede che probabilmente questi successi forse gli davano fastidio e questo però rientra nelle conflittualità tipiche di città di Castello perché Roberto Bianchi è un personaggio pesante però quello che finisco dicendo che a città di Castello l'augure soltanto non lui bene o male insomma ha riportato a livelli decorosi una piazza come città di Castello adesso c'è una nuova situazione è entrato un personaggio come Piero Mancini che è stato comunque per tantissimi anni presidente di città di Castello dell'Arezzo scusate e quindi diciamo che una prosecuzione sembrerebbe essersi però poi questo va sempre verificato negli atti nel campo perché un conto è Piero Mancini importantissimo che però magari per una sorta di rivincita personale con Frodellarezzo viene a città di Castello sicuramente molto importante un altro discorso è uno come Roberto Bianchi che credo che essendo di città di Castello ci aveva diciamo oltre il discorso anche quello di cuore va detto perché poi uno quando gravita nel proprio paese nella propria città è come per me quando ero con la Tibilis o Roberto Lacannara è una cosa diversa da tutte le altre punto certo Roberto Damaschi personaggi come Bianchi ce ne vorrebbero di più nel mondo del calcio nel nostro calcio diciamo il mio punto di vista anche perché hai una buona conoscenza dell'avvocato assolutamente sì infatti ci permettiamo vicenda battute proprio per il rapporto personale scherzoso e goliardico ma ci vogliono i personaggi che danno visibilità che danno entusiasmo che danno competenza anche è chiaro che servono personaggi soprattutto in delle piazze importanti io oggi vedo le cose anche da un punto di vista diverso chiaro che per chi gestisce il calcio in Umbria le società sono tutte uguali non ci sono figli e figliastri però è di evidenza totale che c'è una difficoltà delle piazze importanti in Umbria a mantenere un passo a livello del blasone l'Orvietana quest'anno è tornata in interregionale Foligno ha i problemi che ha Spoleto sta provando a ripartire con una manovra di fusione Città e Castello spesso va in difficoltà Gualdo Tadino dopo anni splendenti fa fatica è chiaro che in determinate piazze che sono fondamentali per esempio per reggere io faccio una differenza quando avevamo 11-12 squadre interregionali oggi ne abbiamo tre abbiamo subito quest'anno due retrocessioni è chiaro che ci vogliono piazze ci vogliono anche personaggi che diano l'entusiasmo giusto il passo giusto e che sia anche un po' sopra le righe perché poi con il piattume in fondo non si crea entusiasmo se non c'è seguito succede che in determinate piazze poi si crea una concorrenza interna che va a svedire il potenziale magari di città di 30-40-50-60 mila abitanti come Foligno che va ripartito su più entità e quindi perdi quella forza che magari il blasone e il numero di abitanti della città potrebbe rappresentare certo ok allora è arrivato il momento della prima raffiga di calcio mercato poi mettiamo un altro argomento sul fuoco grazie a tutti allora Cannara piuttosto protagonista ha detto sì Raccichini che dunque torna in rosso-blu e il direttore sportivo Porcari ha acquisito anche le prestazioni di Giuseppe Di Mambro classe 99 l'anno scorso Castiglion del Lago e Fogliano gradito ritorno all'AMC 98 dove c'è di nuovo il portiere Luiz Alberto Squadroni classe 89 dopo le esperienze alla Narnese e Massa Martana attaccante esterno nuovo al Trestina il classe 98 Francesco Di Nolfo che vanta anche un passato nelle Perugia invece per quanto riguarda il calzolaro la neopromossa in promozione doppio colpo in attacco con l'arrivo di Diego Calderini e Alessandro Santini mentre in difesa c'è Luca Bastianoni ex lama e il centrocampo il ritorno dopo un anno del jolly Filippo Caselli benissimo eccoci di nuovo qui allora io volevo proseguire un attimo con Roberto Damaschi che ha in qualche modo anticipato questo piccolo argomento questo argomento non è piccolo parlando un po' del Forigno allora il 14 scadono le iscrizioni all'eccellenza è tutto ok oppure c'è qualche non ho la palla di vetro quindi ho letto le dichiarazioni saprai se su 17 squadre se sono iscritte 16 o 14 la settimana prossima io ritengo insomma visto le parole che ha speso il sindaco Stefano Zuccarini anche quelle che ha speso Renato Colavita che è un personaggio un po' particolare ma in fondo credo che non voglia esporsi cioè su un fatto come l'iscrizione c'è poco che dice o la fai o non la fai io spero che si iscriva innanzitutto per quello che dicevo poc'anzi discorso della piazza di Forigno e poi perché perdere società è sempre perdere comunque un patrimonio chiaro che ci sono le regole ci sono scritte quindi i parametri sono quelli o sei dentro o sei fuori non c'è nulla discrezionale ripeto il mio sentore personale è che si iscriva però insomma adesso no perché a Forigno insomma gira anche un po' una voce speriamo che non si iscriva onde evitare un altro anno insomma un po' sofferente in maniera piuttosto barcata come con nome l'ultima stagione chiaramente la stagione l'ultima stagione è stata una stagione particolare è partito un po' in ritardo è entrato sostanzialmente in corsa quest'anno avrebbe modo di programmarla anche se sin qui sotto il profilo di calciatori e tecnici non mi sembra che ci siano novità è una situazione complessa perché a Forigno è complessa tutta la situazione inutile che ci nascondiamo dietro un dito se per 15 anni ce ne sono stati 13 di problemi qualcosa che non va c'è Renato con la vita ha da parte sua per certi versi il vantaggio di non essere uomo di calcio dall'altra lo svantaggio di non essere un uomo di calcio con quello che conviene magari in certe situazioni comprendere le dinamiche io credo che se realmente ci fossero state le condizioni avrebbe passato la mano perché non vedo che interesse possa avere a rimanere però ripeto mancano pochi giorni e poi credo e spero che non sia neanche nell'interesse suo ripartire per fare una stagione tribolata se parte perché credo abbia le condizioni per fare un campionato come ha detto dignitoso senza alcuna velleità di vittoria senza squilli diversamente ripeto non vedo non vedo che motivi possa avere per fare un campionato fatto di tribolazioni e di problemi che poi con la parte tecnica nel calcio ci possono essere quelli della parte tecnica perché si parte in 16 in 17 in 18 una vince 4 retrocedono e quindi qualche problema ce l'ha quelle possono anche capitare però che le condizioni strutturali siano quelle necessarie per fare un campionato mi confermi che ancora non si è iscritto dopo tutto questo discorso non c'è mancano 4 giorni in a scadenza 3 giorni diciamo quindi sostanzialmente no no c'è tempo però non se ne sia parlato se ne parla però noi siamo una parte fondamentalmente facciamo i notai di un regolamento quindi l'ultimo giorno prendiamo quello che c'è scritto e agiamo di conseguenza noi possiamo fare dei interventi né di natura come dire di sprono di sollecito ad iscriversi né di interventi per fare chi figlio e chi figliastro ripeto abbiamo una posizione puramente notarile in questo caso e questo è di rispetto per tutto il sistema senti Alvaro torniamo un attimo a Città di Castello poi andiamo su altre situazioni ti aspettavi un mercato un po' più scoppiettante visto insomma l'arrivo di Mancini aveva detto lotterò per i primi tre posti invece finora insomma si parla anche di Calderini il ritorno Calderini credo che sia pressoché fatto da quello che mi risulta per cui questo è un attimo importante perché era stato bravo allo scorso a portare a Città di Castello Roberto Bianchi il figlio è possibile che possa arrivare anche un nostro vecchio pupillo mi dicono Ferri Marini che sarebbe un altro settore importante allora io sono convinto il mercato della serie D è diverso da quello regionale d'eccellenza perché poi sinceramente siccome si parla di ampio raggio c'è ancora tempo per fare quei tre o quattro colpi che sicuramente Città di Castello farà se no non avrebbe senso qualche conferma quindi sono convinto che alla fine Città di Castello sarà una squadra importante vedo che c'è un pochino di dissonanza nel senso che Bagaggini il direttore dice col budget che ciò bisogna fare mentre Piero Mancini dal punto di vista suo giustamente vuole perché è sempre stato così anche quando c'era Conte Sarri allenatore ad Arezzo essere uno che questo campionato se lo vuole lottare anche se io ritengo che il campionato sia già pressoché deciso fin da adesso con l'Arezzo che lo vincerà però questo ancora forse mi sbilancio troppo è anche prematuro però Città di Castello sono convinto L'Arezzo però ultimamente ha sempre L'Arezzo ha dirapidato in due anni con situazioni incredibili perché ha avuto gestioni purtroppo tecnicamente scellerate con una retrocessione costituita da un budget enorme era impossibile retrocedere dalla Sede C e la stessa cosa è successa l'anno scorso perché hanno speso l'ira di Dio per arrivare terzi quarti però Città di Castello ci sarà e poi così come lo stesso Trestina che ha cambiato parecchio però insomma ha rimpiazzato bene le colonne più importanti e noi siamo una lorvietana finisco sulla Serie D siamo una neopromorsa però ho le stesse sensazioni in possibile sbilancio dell'anno precedente quello che abbiamo fatto finora secondo me è importante per la categoria saremo una squadra di battaglia in assoluto cercando di mantenere quel bel regime di gioco che abbiamo prodotto l'anno scorso in un campionato diverso ma senza nessun assillo né paura perché ricordo comunque che io quando sono stato ad Orvieto 15 anni fa insomma la Serie D era la categoria dell'orvietana per cui l'ambiente non si deve temere nullo lo dico sempre tutti i giorni però è anche vero che per 10 anni ha fatto altre categorie però c'è l'entusiasmo giusto da parte di tutti noi per poter fare un campionato in cui diciamo molto obiettivamente dobbiamo pensare a cacciarne sotto 6 poi se viene qualcosa di meglio siamo tutti ben felici beh almeno l'anno prossimo almeno di di tornare almeno a 4 rappresentanti in Umbria altrimenti adesso stiamo proprio ai minimi storici termini però l'ha spiegato prima Roberto purtroppo ci sono piazze che hanno anche commesso errori clamorosi sin dai tempi nostri quando eravamo via Perusa qualcuna addurittura è scomparsa però è anche vero che la nostra regione di 800 diciamo che la colpa è stata di quel Perugia che ha fatto il modo che la colpa è stata di Roberto Damaschi che avendo come sempre che avendo allestito una squadra importante assieme a sottoscritta ad altri ha fatto in modo che gli altri ma io li capisco perché poi è facile dire adesso capita una volta nella vita al Todi di confrontarsi al Sanseponcolo all'orvietale di confrontarsi con il Perugia e probabilmente hanno fatto qualche passettino in più dal punto di vista economico però poi il Perugia se ne dice è stato solo quell'anno diciamocela tutta era un'occasione è stata un'operazione da sottolineare sempre quella di Roberto e di coloro che hanno dato una mano in quelle situazioni Avvocato tra Città di Castello e Sansepolcro c'è da sempre una grande rivalità non solo sportiva io non sono di quelle parti però insomma così mi risulta tu invece hai saltato il fosso così insomma di provviso senza tanti pensieri sì beh devo dire che le città hanno sempre avuto una rivalità storica però questa rivalità è andata scemando negli ultimi anni anzi sia a livello politico attualmente l'attuale sindaco Luca Secondi che è un'ottima persona ha creato delle ottime sinergie insieme al sindaco Fabrizio Innocenti quindi c'è molta più unità sotto questo profilo indubbiamente Sansepolcro è una realtà è una società che l'ho trovato ben strutturata chiaramente è vero che ha subito la retrocessione un paio d'anni fa dopo 22 anni di serie D però è una società ben strutturata ben organizzata che ha una spina dorsale molto robusta e molto forte mi hanno onorato insomma mi hanno fatto entrare nel gruppo degli 8-9 dirigenti tutti i personaggi importanti cioè a differenza di altre realtà questi sono tutti soggetti che hanno una realtà imprenditoriale molto forte tra virgolette il più povero ha 80 dipendenti insomma tanto per farci capire e quindi il calcio per loro è una passione un quid pluris rispetto a quello che fanno nella vita che hanno avuto successo nella vita a differenza di altre realtà in cui invece ci sono molti falliti nella società civile che si cercano di riciclarsi attraverso il calcio beh no questa è la verità insomma e invece devo dire a Sansepolcro c'è questa realtà importante e altre realtà calciste dovrebbero prendere esempio sotto questo proviso da Sansepolcro e l'ambiente è molto bello c'è poi l'altro Tifernate che è Guerri che fa il direttore generale ed è veramente un direttore generale perché gestisce con molta professionalità e a 360 gradi e poi questo giovane direttore sportivo Monni che devo dire che sta mettendo un impegno un entusiasmo io quando vedo i giovani che si impegnano così mi fa molto piacere un mio pallino era l'ex allenatore del Foligno e mi hanno accontentato lei è veramente un gran personaggio e ci voleva uno di esperienza e sul sì ho contribuito io a farlo tornare in bianco nero e poi adesso annunceremo questo difensore centrale ormai imminente e c'è un colpo di mercato importante promesso che sarà il primo perché si maturerà in questi giorni beh no perché non vorrei farlo soffiare insomma se no do fuoco il titolo d'avvocato non ci vede nessuno no questo è vero indubbiamente no però insomma ecco speriamo di fare un campionato interessante io ancora sto un attimino in finestra perché mi hanno accolto veramente a presa aperte un trattamento che non credevo proprio persone eccezionali e quindi sto un attimino se no sono troppo irruento esuberante però insomma veramente io spero che in un bienio di fare qualcosa se non sbaglio lo volevi portare anche a Castello sì sì l'avevo corteggiato hai contribuito in maniera importante sì sì mi è piaciuto cioè l'hai pagato tu insomma no 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 questo no ho contribuito anch'io questa è logica però insomma creeremo una bella una bella squadra competitiva beh Sansepolcro una piazza che se non sbaglio detiene il record di presenze consecutive in Serie D 23 anni se non sbaglio quindi insomma sarebbe il suo abito preciso adesso al di là che poi quello che dicevo prima sono tutto uguale però poi la storia il pedigree insomma Sansepolcro credo che meriti un palcoscenico diverso perché l'hanno sempre fatto con grande dignità con dei giovani con giocatori cioè scoperti e lanciati anche da un grande settore giovanile quindi è una piazza se abbiamo di sotto quota molto molto validi uno bravissimo ce l'ha soffiato Arcipreti ma giustamente è andato in Serie D che il portiere no beh è andato in Serie D quindi Nè che ha scelto un'altra piazza con Correa e noi faremo una squadra per cercare di stare molto su è chiaro che tanto siamo contenti che non ci sia più l'Orvietana perché se no con Arcipreti tanto voleva mollare subito però dopo è chiaro ci sono realtà come AC4 so che sta facendo un mercato scolpiettante e questo spero insomma sarà un'eccellenza poi ci sono grandi firme ci sono altre squadre molto forti che le menzioni ho menzionato questo ma c'è l'Eller vedo che sta facendo il Castion del Lago ecco ci sono realtà importanti ma ce la giocheremo insomma stiamo creando un bel ambiente c'è un altro che non cita nessuno che dovrebbero essere tutti prestati che ha fatto una fusione che si chiama BMG se non vado a raro e attenzione a quella lì sì sì faremo attenzione a tutte perché insomma Arvaro volevi aggiungere qualcosa no aggiungo su Sansepolcro l'ho detto tu ma aggiungo io c'è un ricordo fantastico perché se poi sono riuscito a arrivare a Perugia al di là che fu Roberto insomma ci andammo perché due anni prima Sansepolcro con Battistini facemmo un campionato storico secondi dietro a Lucchese 71 punti e so benissimo qual è il valore di quella piazza lì io credo ci sia attualmente un Deus Ex Machina che è Giovanni Guerri che il vantaggio vero è che Giovanni Guerri è un personaggio di calcio che sa quello che fa ha avuto una lunga esperienza nel Perugia e intorno come diceva l'avvocato Bianchi c'è una società strutturata è entrato anche Marco Patata che è un imprenditore importantissimo di Umbertide si parla di 400 dipendenti e quindi cioè sono stati bravi a strutturare la cosa poi parlando con Giovanni mi ha detto che c'è anche un rilancio del settore giovanile che è sempre stato un fiorallocchiello e quindi sono tutte situazioni che e Zanziponco fa il passo secondo la gamma sta facendo una squadra importante perché come diceva l'avvocato ci saranno stanno l'eccellenza credo sarà veramente un campionato di alto livello perché ci sono tre o quattro squadre tutte attrezzate io credo che si fa altri due giocatori anche Zanziponco per poter competere ne aggiungerei un'altra magari la diciamo dopo la pausa tra i misteri del bosco la terra custodisce un tesoro Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto il suo profumo è emozione e magia quando pensi a un tartufo Giuliano Tartufi Ottica 2M dal 1982 il vostro punto di vista nelle nostre sedi di Umbertide e città di Castello potrete usufruire dei servizi di misurazione della vista montaggio e riparazione occhiali applicazione di lenti a contatto cortesia e professionalità unite a un'atmosfera familiare e a un ambiente cordiale contraddistinguono da anni i nostri servizi Ottica 2M la trovi a Umbertide in Viale Unità d'Italia 35 e presso il centro commerciale La Fratta a città di Castello in via Giuseppe di Vittorio Davide Scarpellini è un'agenzia di vendita autorizzata a Riello e attiva da due generazioni in tutta la provincia di Perugia una realtà profondamente radicata sul territorio che da oltre 50 anni affianca progettisti termotecnici ed installatori la sinergia vincente tra le tecnologie Riello e la nostra consulenza emerge in modo significativo nei progetti speciali Oggi Davide Scarpellini opera sul mercato con un team di 9 persone e una sede completamente rinnovata nei colori e nel look con un fornitissimo magazzino fiore all'occhiello della nostra azienda che si estende su una superficie coperta di circa 1100 metri quadri e 200 metri quadri di uffici commerciali cosa ti aspetti di solito da un ristorante forse professionalità attenzione ai dettagli materie prime di qualità suggestive atmosfere e sapori che esplodono alla Locanda del Postiglione troverai tutto questo ma anche un suggestivo deore esterno che ti farà emergere nelle bellezze del Borgo Romano Locanda del Postiglione e Aspello dove anche il cibo è arte Gambini Assicurazioni innovazione tecnologia e sicurezza al tuo servizio nelle nostre sedi di Terni Narni Amelia Fornole Attigliano Todi e Orvieto alla Gambini Assicurazioni ti aspettano professionisti formati per consulenze personalizzate su prodotti salute welfare aziendali coperture rischi piccole e medie imprese fondi pensioni e prodotti di investimento e da oggi scegli il veicolo adatta alle tue esigenze con il noleggio lungo termine di Unipol Rental pensieri zero assicurazione completa di casco manutenzione assistenza riparazione soccorso stradale H24 tutto incluso in un unico canone mensile contattaci un referente sarà subito a tua disposizione eccoci qui l'altra che intendo io è il Branca che secondo me ha fatto un mercato molto importante e probabilmente è una di quelle società che parte un po' dietro le altre negli intendimenti della maggior parte però secondo me ha fatto una bellissima squadra sì Branca ha preso forte il giocatore di tutti quelli presi e attaccati quello più importante che è Ettore Marchi però magari metterla a livello di quelle che abbiamo detto prima credo che sia un pochino prematuro anche se è vero che anche per la conformazione della struttura al campo il fatto che gli ogubini sono gente con cui è difficile andare a giocare contro però io rispetto alla tua considerazione Stefano dico che rispetto a L era ex Massa Martana Sansepolcro ci metto anche Lama e soprattutto la C4 perché poi il BMG il BMG ho detto ex Massa Martana è sbaglio perché poi si offendono e hanno ragione perché ancora deve abituare a di BMG e quindi no veramente importante il Branca la metto subito dietro perché ripeto ha preso oltre l'attaccante un paio di giocatori molto molto importanti e già insomma veniva da un campionato dove ha ceduto un po' nel finale però è stato sempre all'altezza della situazione nei piani sono campionati che non è non sono campionati del bilancio di chi spende di più vince la dimostrazione non per piageria perché qui l'orvietano non era certo quella che aveva speso di più l'anno scorso però l'organizzazione il modo di cioè poi dopo ti porta a vincere e a battere quelli che hanno speso di più anche col Tiferno mi ricordo che insomma noi spendevamo un terzo di quello che poteva spendere il Gavorrano la Rezza eccetera eppure abbiamo insomma fatto un campionato tenuto insomma a Gavorrano vincevamo 1-0 poi ci hanno pareggiato al 94-ismo cioè squadre che spendevano tre volte quattro volte tanto quindi questo non sempre chi spende di più sono situazioni da rimarcare comunque che non sempre i soldi riescono a imporare le competenze contano sono d'accordo assolutamente Roberto Damaschi intanto raccontaci come stai vivendo questi primi mesi diciamo da consigliere federale del comitato regionale Umbria e poi anche se c'è qualche novità in arrivo non so di qualsiasi genere si tratta allora lo sto vivendo con molta curiosità devo dire pensavo peggio che può sembrare la battuta e lo è in parte perché io uomo di campo più una panchina custode fattodum della società messo dietro la scrivania insomma la pensavo più pesante invece no con calma sto entrando i meccanismi e anche a livello organizzativo c'è c'è molto da fare credo di essere tenuto in in ottima considerazione oltre del presidente e da tutto il consiglio quindi lavoriamo per il movimento in generale seguivo con attenzione quello che dicevate per esempio da osservatore esterno diciamola tutta quest'anno il campionato non è stato così combattuto perché pronti via l'orvietana ha messo una grande ipoteca sul successo finale però per il movimento è sempre bello che i campionati siano combattuti fino alla fine mi sembra che quest'anno sia il viatico sia quello di un campionato dove 3-4 squadre possano possono sprintare a lungo per il successo finale novità in particolare non abbiamo nulla stiamo ripartendo stiamo ripartendo dopo la pandemia non è facile perché perché comunque sappiamo benissimo che le società hanno vissuto momenti difficilissimi e non è che si gira la chiave e domattina è tutto superato a livello superiore del nostro si sta lavorando nel senso a Roma perché ci sono due grandi novità che impatteranno su tutto il sistema che è quella del lavoratore sportivo che a mio modo di vedere è una follia che dovrebbe entrare in vigore anzi entrerà in vigore non credo che ci siano possibilità via di uscita dal primo di gennaio 2023 però ancora ad oggi non sono chiare tante cose non è chiaro chi rientrerà sotto questo profilo per esempio calciatore sì calciatore no secondo me sì però è una norma che è stata fatta che ho contestato sin da subito poi ragionandoci avrebbe anche un suo senso perché l'80% delle palestre sono associazioni sportive direttantistiche lì veramente c'è gente che fa quello di mestiere e che abbia delle tutele mi sembrerebbe più che naturale però hanno fatto di tutto un erba un fascio buttando dentro di tutto e pensare che il segretario il custode di una squadra di primo seconda categoria sia assoggettato un sistema che de fatto è professionistico perché una volta che cioè che è tassato è professionistico secondo me è completamente sbagliato pare anche se oggi il limite è scritto a 10.000 euro si è detassato forse fino a 15.000 e l'altra novità che impatterà pesantemente anche se lì ci sono ancora margini di manovra speriamo quanto meno dettati dal tempo la decadenza del vincolo sportivo dal 2025 che scalerà per un anno al 2024 sarà una se così fosse e spero di no una rivoluzione copernicana magari migliorare le regole cioè io credo sempre che nelle cose passare da un estremo all'altro non abbia mai portato a grandi risultati quanto più la cosa debba essere migliorata oggi mettere società che puntano enormemente sul settore giovanile tutti parlano abbiamo una crisi nazionale i risultati di tornare i giovani italiani e poi penalizzare chi ci lavora non credo che sia come dire una scelta strutturalmente illuminata però credo che ci siano state delle pressioni da certe parti il calcio va sempre più in mano ai procuratori non ho remore a dirlo alle pressioni di un certo tipo di calcio mercenario sempre meno passionale e credo che chi è chiamato a decidere e qui non possiamo che rispettare perché le leggi dello Stato sono le leggi dello Stato non è che la federazione piuttosto che un comitato regionale possano andare per conto loro faccia degli errori adesso non so a che livello la LND parlo di Roma è chiaro che sia la federazione italiana gioco calcio sia la lega nazionale direttanti sta portando avanti un confronto serrato devo dire che veniamo da due sottosegretari allo sport insomma poco inclini a vedere il calcio dilettantistico com'è uno perché non lo conosceva per niente e uno perché lo vede l'atleta io posso capire che nel calcio professionistico l'attore se non principale è anche lì però chi produce il Ronaldo il calciatore professionista alimenta un circuito che si paga forse il calcio dilettantistico bisogna invertire per forza il punto di vista cioè il calcio dilettantistico ci mettono i soldi dirigenti altrimenti il calcio non va avanti e quindi il punto di vista prioritario pur ascoltando tutte le parti ma quello dei presidenti e dei dirigenti debba essere predominante perché se una volta io sono anni che lo dico ci vorrebbe che sei mesi fanno sciopero i dirigenti invece che una partita dei calciatori la facessero un mese non sei mesi i dirigenti poi vediamo basterebbe per creare una situazione parliamo parliamo di situazione quello che mi dice quello che sto scoprendo e poi sono curioso ogni tanto vado a girare le carte cioè sono una marea di società a livello umbro e nazionale dove i dirigenti sono andati a mettere firmi in banca per migliorare le strutture sportive che poi però sono di proprietà pubblica cioè io credo che il dirigente con tutti i limi poi mi dicono sbaglia perché strella l'amore di Dio non è che è un mondo di santi però sono l'asse portante sono l'asse portante del calcio direttantistico su questo spondi una porta aperta con me io ho sempre il dirigente in primissimo piano e il resto che viene dopo Alvaro volevi aggiungere qualcosa su quello che ha detto Roberto? ormai no anche perché Roberto ormai è entrato dentro l'ottica giustamente perché si ha fatto una scelta anzi io mi sono un po' meravigliato questa sua lunga assenza dai campi conoscendo quanto ci ha penso l'abbia fatto anche un pochino di violenza a se stesso però è evidente che sapendo questo questo diciamo nuovo suo incarico ma anche perché conoscendolo lo so benissimo che per certi versi dunque qualche volta è anche maniacale che gli ha preso bene e sono contento per lui ma io dico in generale anche per il movimento perché poi uno può discutere di Arcipreto dell'Avvocato Bianchi di Roberto Damaschi perché ognuno ha i suoi amici e i suoi nemici però lui dentro la federazione credo che abbia con tutto rispetto per tutti quanti un'esperienza di campo che serve tantissimo rispetto diciamo a tante altre situazioni per cui sono contento che lo faccia con piacere sono d'accordo sulle sue considerazioni Avvocato non so tu che rapporti hai con l'attuale presidente federale però gira voce diciamo che la figura di Roberto Damaschi sia stata un po' inserita affinché diventi poi il suo successore allora io sapete che cioè a parte l'ho dimostrato l'ho già dimostrato in questa trasmissione non sono non sono uno che viaggia di piageria eccetera a me se una persona non piace non ho io sono uno leale a prescindere io sono uno leale a prescindere quindi su questo per me è fondamentale Roberto Damaschi ha una grande qualità è schietto come me infatti perché si è creato subito questa simpatia reciproca è schietto non accetta compromessi fa le cose con passione e sarebbe una bellissima figura come presidente anche per il suo trascorso calcistico Damaschi io quando ancora non ero nel mondo del calcio lo guardavo veramente con grande ammirazione tuttora ma prima come persona non conosciuta quindi insomma ha anche il carisma giusto per poter domani ricoprire una carica molto importante che non so se quella da presidente oppure ancora di meglio quindi benvengano persone come lui capito insomma ecco è importante guarda quello che sto scoprendo in questo momento è importante il gioco di squadra perché per esempio è chiaro che l'impatto con l'opinione pubblica è l'eccellenza no? un po' la promozione il resto si rischia di cadere nel dimenticatoio io invece guardo ci sono due personaggi li nomino per tutti Ortenzi Valentina Roscini che fanno un lavoro straordinario per un movimento che in questo momento magari è secondario calcio al 5 il femminile il femminile sta crescendo enormemente lo vediamo e c'è proprio a naso una sensazione una sensazione importante ci sono delle persone che si stanno muovendo in maniera adeguata con passione e competenza per far sì che il movimento cresca a 360 gradi bene è arrivato il momento della seconda raffica di calcio mercato che si stanno muovendo Eccoci alla seconda raffica di calciomercato, Virtus Stangiustino, grande protagonista in prima categoria, l'ultimo arrivo è quello dell'attaccante esterno Giuliano Fici, classe 97 l'anno scorso alla San Marco Juventina. Anche a Bevagna cominciano ad arrivare i primi colpi, è ufficiale il centrocampista Jacopo Boldrini, ex Magione, lo scorso anno era al Palazzo, nonché il centrale difensivo Gabriele Venarucci, che invece era la Giulia Spello. In seconda categoria riparte con progetti piuttosto interessanti ed ambiziosi il Colombella Perugia Nord, Giovanni Carini nuovo direttore generale, Giuliano Sargentini mister, già diverse acquisizioni, soprattutto in arrivo dal San Mariano, l'ex squadra proprio di Carini, parliamo del portiere Vagnetti, dei difensori Costantini, Grasselli e Maracaglia, del centrocampista Tomarelli e dell'attaccante Daniele Tamion. Bene, eccoci di nuovo qui dopo la seconda raffica, c'era l'avvocato che voleva chiusare una situazione. Ho dimenticato la squadra forse una delle più importanti, c'è la Narnese. Allora, l'Anarnese è una squadra solida, forte e gli ho sempre invidiato tra l'altro il pubblico, c'è un pubblico meraviglioso, sono i pubblici meravigliosi, sono Lama, l'Anarnese, c'è Poligno, sono pubblici interessanti, belli che sono proprio il dodicesimo giocatore in campo. E quindi l'Anarnese farà sicuramente un campionato ad alti livelli come ha sempre fatto. Di alto livello, eh ma insomma, cominciano a essere parecchi queste favorite o comunque insomma... Però ha ragione l'avvocato, la tradizione conta, l'ambiente e Narnia a questo punto di vista è un fiore all'occhiello, secondo me, della nostra regione perché d'altro canto anche lì c'è un presidente come Garofalo che è una vita che conosce a mena dito, Gambini che ha una passione e un entusiasmo incredibile e quindi magari ha fatto una campagna di acquisti meno attisonante rispetto a quelle che abbiamo citato prima. Però di diritto bisogna metterci anche l'Anarnese. Però l'Anarnese diciamo... Anche se quest'anno parte con proclami diversi, no? Parte con proclami diversi, sì, ce l'ha confermato a noi durante l'altra trasmissione. Però avendo tanti giocatori comunque giovani, no? Però sono bravi, eh? Ma il 2001-2099 hanno pensato bene, secondo me, di non lasciarli liberi cercando altri 27-28 anni e magari quest'anno fa un campionato non da primo o secondo posto, però magari l'anno prossimo è pronta per sferrare un attacco ancora più importante. Sì, perché primo o dopo è come senza poco, Narnia deve ritornare in Serie D, e dà troppo tempo che manca. Senti, Damaschi invece volevo sapere, visto che hai detto che ti occupi anche di situazioni minori, chiamiamole, se state facendo qualcosa affinché la seconda categoria non sia a 33-34 squadre come l'anno passato, insomma, con tre gironi mini... C'è qualche... Tutto bellissimo perché... Qualche iniziativa insomma... Mi rendo conto che da fuori si vedono delle cose... Ci sono delle iniziative che c'erano anche gli altri anni, però è chiaro che l'ultimo campionato prima dobbiamo vedere le iscrizioni così come... Noi andiamo a una serie di riunioni territoriali, devo dire, con una percentuale di partecipazione superiore al 70%, quindi lo stato di salute e di partecipazione del rapporto della società con il Comitato è uno stato che posso definire ottimo e non sono state tutte, cioè così come dire, con i fiori in mano, sono state anche posizioni divergenti, anche prese di posizione come giusto che sia perché si governa, io dico sempre, per governare bene la maggioranza deve avere pure una buona opposizione, ora nel caso se non un'opposizione quantomeno un ragionamento franco schietto che stimoli il confronto probabilmente il prossimo anno sul Calcio 5 ci saranno delle modifiche perché non è che poi ci fai la riunione la mattina dopo qui minimo viaggi a 12 mesi. È chiaro che abbiamo avuto problemi sui gironi della Juniors a due molto distanti, però una volta che avremo il panorama sulle mani vedremo come gestire meglio possibile nell'ottica di venire incontro alle difficoltà logistiche soprattutto delle società. È chiaro che veniamo gli sport tutti, io ho visto anche delle carte e degli studi a livello di LND, tutti perdiamo tesserati e società, l'Umbria siamo sotto al benchmark, quindi un minimo mitica la preoccupazione d'altra parte se la tendenza nazionale è quella è difficile fare in maniera pesante se limiti i danni già hai fatto abbastanza. È chiaro che stiamo lavorando con il calcio nelle scuole, con delle iniziative che negli anni si sono incrementate, purtroppo stavo un po' sospese a un anno perché quest'anno già siamo tornati con discreti numeri per portare di nuovo tesserati e aumentare la forza del movimento, avere più squadre che magari vanno a limare questi problemi che a volte vorremmo anche risolvere, però se si iscrivono di 20 squadre è chiaro che il girone, almeno sono le squadre iscritte e più si allontanano le distanze, questo non è che possiamo fare nulla, né se possono fare il girone 6-7 squadre. Io pensavo magari di sensibilizzare altre situazioni, magari cambiando il giorno di gara della seconda campionaria, farli giocare venerdì sera come fanno i lavatori. Sono state proposte delle cose nelle riunioni, le società sono state informate di alcune idee che il comitato ha e a breve, prima dell'inizio del campionato, andremo a vedere una volta che abbiamo... Vedo delle differenze per esempio tra di noi e altri comitati, quelli che annunciano molto prima alcune cose date, noi abbiamo un sistema di vedere intanto chi sono gli iscritti e poi ragionare quando abbiamo delle certezze. Vedo altre regioni che hanno avuto esperienze di tre gironi di eccellenza che poi hanno portato a problemi, il campionato 9-10 squadre, noi abbiamo ridotto al minimo e vorremmo tornare a un regime di normalità prima possibile, perché comunque è chiaro che il Covid qualche problema l'ha creato tutti, insomma, non è che è una scusa, non è banale. No, no. Avvocato, qual è il rammarico più grande di aver lasciato il Tiferno? Tu l'hai lasciato da Tiferno? Sì, sì, no, la cosa che mi ha fatto piacere, forse che ho gradito di più, ma non penso che l'abbiamo fatto per fare un piacere a me, il fatto che il Tiferno sia nato con me e sia morto con me, quindi adesso è tornato a chiamarsi Castello, ricordo che nel 1919 si è chiamato Tiferno fino alla Seconda Guerra Mondiale e i tifosi hanno sempre urlato non Castello ma Tiferno allo stadio. Quindi, rammarico, certo, poter essere il presidente della squadra della città dove abiti è fantastico, insomma, io ho vissuto dei momenti bellissimi, ho portato fino a 1600 persone allo stadio con il derby con l'Arezzo, con quel 3 a 3 spumeggiante, avevo creato operazioni di marketing, avevo fatto venire il figlio di Peruzzi al Tiferno, quindi Peruzzi ha soggiornato a Castello per più di un mese, quindi, insomma, è stata tutta una cosa in cui città di Castello se ne è parlato, io andavo al mare a San Benedetto del Tronto, mi fermavo una cena, persone, cioè, la città, non tanto Roberto Bianchi, ma la città aveva assunto una visibilità bella e importante. Mi auguro, ripeto, che il presidente Mancini, che non conosco, possa proseguire questo cammino, non dimenticando che se non avessi portato il Tiferno alla Serie D, di certo non avrei creato quell'oggetto interessante da poter vendere a terzi, insomma. Vabbè, assolutamente. Comunque nel calcio, diciamo, è abbastanza difficile essere profeti in patria. E tu lo sai, anche qui. No, io ho un buon rapporto, però nel tempo non è... Beh, io ce l'ho riuscito, a parte i due soggetti che amministrano la città. No, noi abbiamo festeggiato il ventennale della Cannara, sono stato protagonista insieme a tutti gli altri, incominciando a Luciano Angelucci, della vittoria del campionato italiano Junioras Direttanti, però poi per trovare la mia dimensione non era la mia, pur avendo sempre avuto un grande rapporto, cioè io non ho nulla di sassi nelle scarpe da tirare fuori. Però alla fine... Cammini comodi. No, però è chiaro che, devo dire, mi trovo meglio fuori, comunque, perché esco da alcune dinamiche paesane che poi diventano un problema. Ma il nostro amico Antonio Baldaccini ce la farò portare a Sansepolcro. Girava voce di San Benetto del Tronto e non solo in vacanza. No, lui, vabbè, andavamo insieme in vacanza lì e gli ho detto, ma tu che fai, vieni in albergo e si è comprato casa, cioè, quindi, si è comprata anche una bella casa. Cioè, quindi, no, sì, non credo che faccia questo, porti avanti questo progetto. Però Antonio è un altro che ha, Baldaccini ha un entusiasmo incredibile, contagioso, cioè, è una persona fantastica. È un peccato averlo perso nel calcio, insomma, andrebbe in qualche modo recuperato. Alvaro, volevi aggiungere qualcosa? Compito a te, poi ci riuscirò, spero. No, no, ascolto con attenzione, perché, ripeto, questa è una puntata effervescente. Ormai siamo in chiusura, per cui... Beh, era cominciata proprio con i petardi delle bombe. Con delle bombe più che dei petardi. Però, sul discorso del profeta in patria, alla fin fine l'Avvocato Bianchi l'ha detto, insomma, l'ha portato a un punto tale che, insomma, è arrivato Piero Mancini e gli ha dato questa possibilità. Poi, il resto, ognuno di noi ha le sue. Io, se devo qualcosa, le devo a questa città, a quei colori. Apposta, a volte, la vivo con violenza dialettica. Perché la Tiberis, per me, al di là di tutte quante, compreso il periodo di San Mertese, è quella che mi ha dato, anche a livello familiare, insomma, inutile che si gira intorno, ho detto tante volte, un qualcosa di più. E vederla ridotta così è veramente grande dispiacere. Per il resto, ti faccio i complimenti per questa ora veramente piacevole. Senti, ma parlavi di profeta in patria, perché non provi tu a organizzare un qualcosa, come ha fatto l'Avvocato per Umberto? Perché ormai le distanze sono siderali. E tu sai benissimo che io ci ho provato tre anni fa, quando è arrivato il mio amico Luca Carizia, ho visto però sinceramente, con molto rammarico, uno stato di disinteresse generale. Poi, sa, io nel calcio, io mi riconosco Tiberino al 100%, però è anche vero che noi girate tanto, ho fatto un percorso, e questo lo dico con estrema presunzione, io non lo devo dire grazie a nessuno, nel senso che poi se ci sono sei campionati vinti, oppure belle situazioni, in massimo ovviamente con Umberto a Perusa, lo devo a me stesso. Poi, quando le cose vanno bene, uno si crea anche tante inimicizie, lo so benissimo, però a Umbertide, quando ho fatto il tentativo, proprio perché gli voglio bene, ho visto sinceramente che è stato un po' sconfortante. Quindi, sì, ho capito, però, se non era il momento tre anni fa, è già da vent'anni che non sei, poi questo momento non arriva. Io non vivo la realtà di Umbertide, però... E parlavo anche con l'Avvocato Bianchi, un paio del... Chissà che... E l'unica cosa è che io... Non porteremo la fratta. E chissà che dopo le esperienze nostre, il finalissimo lo facciamo rivincendo altri tre campionati, io e Roberto Bianchi con la consulenza da dirigente, da Presidente federale, che quindi ci darà un occhio di riguardo di Roberto Damasco, e con questo l'ho detto tante, ma mai dire mai, perché io con uno come l'Avvocato credo che ci divertiremmo. Beh, sicuramente una figura come l'Avvocato a Castello ha fatto... La triade si formerà. E si formerà. Diamo questo messaggio a Umbertide. Allora, chiudiamo, siamo praticamente in chiusura. 40 anni fa vivevamo una grandissima giornata. Oggi poi. 40 anni fa, oggi, esattamente. Vincevamo il nostro mondiale 1982, che probabilmente... Questo è solo Roberto Damasco. Che per quanto mi riguarda, nonostante ero mai di 40 anni fa, io mi ricordo meglio questo del 1982, rispetto a quello del 2006. Mi ricordo anche i passaggi dei giocatori. Tu, guarda, ieri sera mi sono emozionato rivedendo sfide di Alex Zanardi, che, insomma, gran bel programma, e, insomma, scendeva lacrime, è stata un esperienzo. Cioè, sogno di bambino, ma la cosa bella, l'immagine brutta, non bella, che secondo me ha dato spiegazione dopo 39 anni, perché abbiamo vinto quel mondiale, sono stati i funerali di Paolo Rossi. Vero. Cioè, le facce... Ah, mi c'è emozione. Eh, ma... Le facce davano un senso. Eravamo piccoli. E hanno spiegato il perché. Eravamo piccoli, insomma. Io avevo 15 anni, io 8. No, più, più, dai. Hanno spiegato il perché, perché era una squadra, perché era un gruppo, e perché comunque avevamo dei giocatori di grandissime qualità. Cioè, avevamo... Avevamo una squadra, avevamo in panchina Causio. Ma anche persone di qualità. Non so. E... Livello inaudito, dai. Non c'erano giocatori, come avvenuto nell'ultima situazione di allenamento, di partite della National League, che abbandonavano il ritiro, così, insomma, come ha sottolineato lo stesso Mangini. di frequenze. No, ma se tu vedi la faccia di Collovati, quando esce col Brasile, pugni in terra, cioè... Era un livello diverso di uomini, però devo dire anche di qualità, perché avevamo veramente una squadra... Cioè, oggi parliamo di costruzione dal basso, avevamo dietro Caprini, Scirea, che con i piedi ci scrivevano. ha un centrocampo, un giocatore a Mettardelli, Paolo Rossi, Conti, Conti, conti... Voglio dire, avevamo... cioè, avevamo un giocatore a casa che si chiamava Roberto Mancini. Il calcio, se parliamo di nazionale, tu mi parli a Mancini di National League. Cioè, Mancini ha giocato mezz'ora su un mondiale, oggi... Oggi vestono la casacca nazionale, giocatori che, veramente a confronto le qualità tecniche di Mancini, cioè, su tre categorie sotto. Assolutamente. Quindi... Volete aggiungere qualche... No, se penso un po' il senso di appartenenza, no? Cioè, un po' tutto ha perso, diciamo, un po' vigore, sostanza, però io sono sempre un ottimista. Io penso dalla politica che ha perso tutti i suoi contenuti, il calcio, il senso di appartenenza, la maglia, cioè, bisognerebbe un po' anche, insegnare ai giovani di questa... Senza portare agli eccessi il nazionalismo, però il senso di appartenenza della città, della regione, della nazione in cui viviamo... Da questo punto di vista hai zoppicato, eh? Beh, no, vabbè... Sei andato a San Giapurgo? Beh, vabbè, naturalmente ho torto collo, insomma, io sarei rimasto, ma... Insomma... Bene, non so se Alvaro vuole... Poi non nulla... Abbiamo detto tante cose, poi nel finale io prendo, appresti di una frase di Van Gaal, il calcio da quando l'abbiamo messo nei campi sportivi a schematizzare i ragazzini di otto anni al posto delle parrocchie e delle porte disegnate sul muro abbiamo avverso qualità. e quindi qualcosa anche noi, proprio la dirigente me lo dico, dobbiamo, dobbiamo, come dire, capire che per rivivere quei momenti forse dobbiamo invertire un po' la rotta e il sistema... le decisioni che hanno condizionato le ultime annate a partire dai dilettanti fino alle professioni... Io credo che il calcio italiano dal mondiale del 2006 da calciopoli non si sia ripreso senza voler... nel 2006 è stato un miracolo senza voler prendere parti Mogino Mogide, Santis, arbitri, segretario della federazione che era di me... Cioè, io dico solo che noi abbiamo messuto comunque un grande... anche a livello di Coppe poi c'è stato il flash dell'Inter abbiamo vinto Champions League e Coppe Europee fino a quel momento oggi ci entusiasmiamo e è bene così che la Roma abbia vinto la Conference League se tu la trasli è l'intertodo del Perugia del 2005 All'incirca l'avversario erano un po' No, no, all'incirca sono la settima l'ottima se tu prendi lo schema era lo stesso quindi... No, finisco dicendo che noi siamo stati fortunati che l'abbiamo vissuto questo 82 è una fortuna unica è come quel tifoso napoletano che nel cimitero di Napoli scrisse gli anni di Maradona che cosa vi siete persi quindi purtroppo erano morti quella è stata una cosa fantastica perché è la stessa cosa noi siamo perché l'82 secondo me non si ripeterà i napoletani non sono napoletani a casa è bene i napoletani questa è una scritta fantastica fantastica benissimo direi che abbiamo veramente chiuso spero che vi sia piaciuta anche questa sesta puntata di 7 Calcio Mercato ringrazio gli ospiti Alvaro Arcipreti il nostro opinionista grazie l'avvocato Roberto Bianchi il nuovo dirigente del Sansepolcro e Roberto Damaschi che è il nuovo consigliere del CRU grazie benissimo allora grazie a tutti davvero e ci vediamo con voi anche lunedì prossimo Ottica 2M dal 1982 il vostro punto di vista nelle nostre sedi di Umberti dei città di Castello potrete usufruire dei servizi di misurazione della vista montaggio e riparazione occhiali applicazione di lenti a contatto cortesia e professionalità unite a un'atmosfera familiare e a un ambiente cordiale contraddistinguono da anni i nostri servizi Ottica 2M la trovi a Umbertide in Viale Unità d'Italia 35 e presso il centro commerciale La Fratta a città di Castello in Via Giuseppe di Vittorio in Via Giuseppe di Vittorio in Via Giuseppe di Vittorio